mi pizzica una gamba ci siamo? bene ragazzi quest'epni bentornati in questo secondo canale che per fortuna mi serve anche per le richieste di aiuto come avrete capito dal titolo ho un problema con la webcam perchè voi vedete che adesso funziona sembra tutto regolare ogni tanto magari da un colpo di sfogatura ma può essere più che normale come cosa il problema è un altro camera mia è molto luminosa e i colori però che si vedono nella webcam non rispecchiano assolutamente quello che è la realtà l'ho scoperto l'altro giorno facendo un video di airstone sul mio canale dove casualmente avvicinavo la spada di minecraft voi direte stepney cosa stai dicendo stai blaterando sei ubriaco no ragazzi guardate se io prendo la spada di minecraft e la avvicino la camera prende colore e questi sono i colori reali cioè questa è la mia faccia vedete levo la spada colori freddi metto la spada colori caldi ora io mi domando e dico come mai fa così non ha senso questa cosa cioè vedete con i colori caldi come si vede molto meglio si vede davvero bene con i colori caldi quindi visto che magari voi siete anche un pochino più smanettoni di me mi spiegate come posso far sì che la fotocamera riprenda sempre in questo modo non avendo la spada sempre se è possibile perché non so se è possibile a questo punto sono contento di avere un secondo canale dove potervi chiedere anche queste cose e non intasare il primo perché mi sembra una stupidaggine farci un video sul primo canale spada colore niente spada niente colore io non so che stregoneria sia questa ma non deve essere una cosa normale più che altro potrebbe essere un problema della fotocamera stessa conoscete una fotocamera migliore per fotocamera intendo webcam perché questa è una logitech c920 mi sembra ragazzi fatemi sapere perché non riesco veramente a capire il problema continuo a fare così con la spada per farvi vedere che è una cosa totalmente assurda cioè non ha senso spada colori niente spada niente colore ragazzi non vi faccio più perdere tempo mi raccomando andate anche sul primo canale perché anche oggi come al solito sono usciti dei video vi prego rispondetemi qua sotto cercate di aiutarmi